in auronzo ieri un grave incidente sul lavoro è morto l'imprenditore giuseppe cella schiacciato dalla ruspa che si è capovolta di auronzo di cadore è l'uomo che ieri a conegliano ha ucciso sua madre si chiama ippolito zandeggiaco morsolina era seguito per i suoi problemi mentali e sulla strada regionale 203 a gordina sempre ieri un giovane di codonier un trevisano impiegato in luxottica alessandro tabacu il suo nome solo 22 anni è morto la mattina presto verso le 5 e mezza per evitare un ungulato che era sulla strada è uscito dalla carreggiata si è schiantato contro una recinzione di cemento e l'auto si è capovolta probabilmente correva anche ma l'incidente pare proprio sia stato dovuto alla presenza di un cervo di un capriolo sulla strada probabilmente un cervo vista la località e cominciamo così con queste notizie tristissime con questi lutti la rassegna stampa di radio piave in blu di oggi martedì 25 ottobre come sempre condotta dai giornalisti dell'amico del popolo vi saluto luisi guglielmi e vi do il benvenuto a questa rassegna comincio dalla notizia che si è presa ieri nel pomeriggio la ruspa capovolta la ruspa si rovescia è il titolo sul gazzettino che vi presento in questo momento muore schiacciato tragedia a cimagonia la vittima è giuseppe cella per tutti gerri 58 anni imprenditore molto noto e stimato in paese stava lavorando a un cumulo di ghiaia quando il mezzo si è sbilanciato ribaltandosi e lui è rimasto incastrato sotto ieri ci sono arrivate subito le notizie dai vigili del fuoco si vede anche uno dei mezzi dei vigili nella foto che grande sulla pagina 11 del gazzettino edizione belluno e subito si è capito insomma la drammaticità della situazione con il suo è arrivato sul posto tempestivamente hanno provato a vedere se c'era modo di salvare questa persona ma non c'è stato niente da fare paese di auronzo di cadore dice l'articolo sconvolto ieri dalla tragica notizia della morte per un incidente sul lavoro di giuseppe cella sartor 58 anni gli amici lo chiamavano gerry quando erano appena scoccate le 16 i vigili del fuoco arrivati da santo stefano pive di cadore con i volontari di lozzo sono intervenuti in località cimagonia sul versante auronzano di tre ponti per il rovesciamento di una pala meccanica all'interno di un'azienda per la preparazione del calcestruzzo che si trova in riva destra del fiume piave la sicca di cui è titolare insieme al fratello antonio era titolare la fotografia ci mostra il volto di questa persona purtroppo deceduta giuseppe ieri stava manovrando una grossa pala meccanica per movimentare un cumulo di sassi quando per causa in via di accertamento da parte del personale dello spisal e dei carabinieri il grosso mezzo si è ribaltato schiacciando il manovratore si fanno le ipotesi fatalità fretta cedimento meccanico o più probabilmente una manovra in automatico eseguita chissà quante volte senza conseguenze ancora troppo presto per accertare le cause della tragedia i pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo di movimento terra sollevandolo con un autogru ed estratto il corpo esanime di giuseppe allertati i soccorsi sanitari sono subito accorsi sul posto con l'elicottero purtroppo nonostante i tentativi di rianimazione il medico del suo mdp vedicatore ha dovuto constatare la morte di giuseppe le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore e mezza gianfranco giuseppini che firma qui contestualizza un po questa vicenda e scrive sorte beffarda quella di giuseppe purtroppo la famiglia cella cella sartor anni fa aveva dovuto piangere un'altra morte bianca quella di elio suo padre oltre che di antonio e di carmen i nomi dei fratelli del morto disgraziatamente elio il padre era di fatto rimasto folgorato da una mortale scarica elettrica durante il pompaggio del calcestruzzo dal camion betoniera il braccio di scarico si era avvicinato troppo ai cavi dell'alta tensione senza tuttavia toccarli ma tanto è bastato per scatenare la scarica fatalmente elio aveva una mano come sua abitudine appoggiata sul mezzo e la scarica evidentemente ha colpito anche lui anche allora era stato un'anima il cordoglio non solo tutta uronzo ma anche dei paesi vicini ovviamente qui ci sono le varie testimonianze e le espressioni di cordoglio e di dolore che accompagnano insomma la notizia della morte di quest'uomo che aveva 58 anni e l'ultimo paragrafo è questo pur restando in ditta pensava nella prossima primavera di infilare le pantofole di godere completamente assieme alla moglie gigliola la baita acquistata sul passo della maurie la stessa che appariva nelle immagini del suo profilo facebook insieme ad altre di montagna la più grande con le tre cime di lavaredo foto innevate viste dal lago d'antorno insomma veramente sono dolori grossi per la famiglia e per la comunità per la comunità tutta questa purtroppo come vi dicevo è solo una delle notizie tristi che oggi troviamo sul gazzettino io vorrei cominciare con notizie allegre ma oggi si fa veramente fatica la prima pagina del gazzettino di belluno è questa il titolo di apertura riguarda i fatti di conegliano gestiva un albergo ad auronzo è stata sgozzata in casa non vi leggerò i particolari del di ciò che gli inquirenti hanno trovato dentro l'abitazione perché sono raccapriccianti i giornali comunque ve li presentano se volete saperne di più comprate il gazzettino o il il corriere delle alpi dove ci sono due pagine anzi tre sul gazzettino addirittura per cercare di approfondire quanto accaduto il figlio ha chiamato i carabinieri l'ho ammazzata io ho ammazzato mia mia madre dice il lancio in prima pagina firma di beltrame alle pagine due tre e poi nove perché finisce anche nel fascicolo nazionale ci sono le foto di questo ippolito zandegiacomo e della madre maria luisa bazzo la donna e il marito si erano conosciuti al bella vista ad auronzo e lo avevano gestito per anni era un ex albergo ippolito zandegiacomo orsolina ad auronzo se lo ricordano in tanti perché in gioventù saliva spesso al seguito del padre bruno e la madre maria luisa bazzo che alcuni che ad alcuni amici aveva confidato la preoccupazione per le frequentazioni del figlio quando i militari si sono presentati alla porta del suo appartamento nel quartiere di parea conegliano ippolito orsolina zandegiacomo 57enne disoccupato già da diversi anni in cura per problemi psichiatrici ma anche per abuso di alcol non voleva assolutamente aprire pur essendo stato lui no a chiamare i carabinieri maledetti vi ammazzo tutti continuava a urlare i militari hanno dovuto forzare l'ingresso sono riusciti ad arrestarlo solo dopo una violenta colluttazione qui si dice appunto della madre uccisa una vita dietro il balcone del bel bancone del bella vista di auronzo di cadore aveva 87 anni la donna l'omicidio è venuto in camera sua ripeto non vi leggo altri particolari lascio lascio a voi dunque l'altra notizia luttuosa e siamo a tre tutte cose accadute ieri l'incidente di ieri mattina presto alle 5 e mezza sulla ex statale 203 strada regionale 203 a gordina un giovane 21 anni 21 22 anni di originario di treviso stava andando a lavorare luxottica e si è uscito di strada a quanto pare proprio per evitare un ungulato un cervo un capriolo e questo gli è stato fatale insomma si schianta in auto per evitare un cervo un 21enne perde la vita a sedico il comune di sedico quel tratto stava andando a lavorare alla luxottica il testimone ha cercato di evitare l'animale ecco se non ci fosse stato il testimone sarebbe difficile spiegare questa uscita dritta di strada contro la recinzione poi il capovolgimento longhi qui che approfondisce pagina 2 e 3 un cervo che gli si para davanti all'improvviso la sterzata sulla destra per evitarlo la piccola opel impazzita che esce di strada rotola su se stessa sul campo l'impatto tremendo contro la recinzione esterna della casa l'utilitaria che rimbalza una decina di metri più indietro rovesciata sul tetto poi solo un grande silenzio rotto da un cane che abbaia nel buio è morto così ieri alle 5 30 alessandro tabacco 21 anni di codonier treviso che stava raggiungendo il suo posto di lavoro in luxottica ad agordo lo schianto in località la stanga in comune di sedico un'automobilista che seguiva l'auto del giovane e ha visto in diretta la sbandata un grosso animale in strada ha chiamato il 113 che a sua volta ha allertato su ai miei vigili del fuoco ma quando i soccorsi sono arrivati sul posto per il giovane non c'era più nulla da fare troppo gravi i traumi riportati nell'impatto è avvenuto praticamente sul rettilineo che conduce alle casette che salendo si trovano sulla sinistra quelle dell'enel a servizio erano state costruite a servizio dei lavoratori della centrale lì vicino quello con gli scuri bianchi e verdi se avete presente ecco contro una di quelle recinzioni è andata a finire l'auto e la proposta questa sarebbe da tenere in seria considerazione sotto passi stradali per la fauna come è necessario intervenire per mettere in sicurezza la viabilità di montagna dalla caduta massi così è urgente mettere in sicurezza le strade dall'attraversamento della fauna selvatica lo ha detto ieri franco de bon consigliere provinciale delegato alla fauna selvatica dopo aver appreso la notizia dell'incidente mortale niente di nuovo purtroppo ma con l'aumento dei capi il problema diventa sempre più grande qui nel lancio non si dice quello che poi c'è dentro che la il ragionamento di ieri di franco de bon era 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 articolato soli dice dove sono stati eseguiti sotto passi per la fauna selvatica la fauna ha imparato che si passa di là e non si attraversa la strada sul tratto belluno levego pieno comune di belluno in sinistra piave che di solito era teatro di numerosi incidenti da quando c'è il sottopasso gli animali passano tutti di là e non si sono più avuti schianti capite che c'è un'esperienza diretta che ci dimostra che è la via da percorrere questa e de bon dice almeno uno all'anno facciamolo tanto sappiamo benissimo dove sono i punti in cui i cervi gli ungulati hanno bisogno di attraversare in basso sul gazzettino in prima pagina c'è la foto di giuseppe cella appunto l'imprenditore morto sotto la ruspa schiacciato da una ruspa muore imprenditore allora visto che sono qui vi leggo l'altro titolo in basso di questa pagina sono finite le riprese della fiction un passo dal cielo la fiction rai giunta alla settima stagione un volano straordinario per l'immagine di san vito dove assiede il famoso commissariato al laghetto di mosigo come rimarcato durante la serata di commiato dello staff al marcora serata di commiato e la gentile brava giusi buscemi che avevamo intervistato l'anno scorso noi dell'amico del popolo era alla serata conclusiva e come sempre si è dimostrata disponibile è una persona veramente di una umanità ricca ed è piacevole insomma avere a che fare anche come giornalisti ma anche come cittadini quanta gente è andata a vedere le riprese e ha potuto parlare conoscere questa questa giovane che tra l'altro non ha mai nascosto il suo orgoglio di essere mamma di tre figli il ministro chiama cortina olimpia di 2026 a poche ore dall'insediamento del governo meloni il ministro dello sport andrea abodi era già in contatto con fondazione milano cortino 2026 l'istituzione che dovrà organizzare i giochi olimpici e paralimpici invernali in italia tra poco più di tre anni la conferma viene proprio dal sindaco di cortina lorenzi al ministro abodi abbiamo evidenziato la nostra esigenza di avere presto molto presto un nuovo amministratore delegato di fondazione milano cortina 2026 perché la macchina che già è in ritardo ha bisogno assolutamente di ritrovare ritmo in sintonia con questo governo la fotografia centrale se volete pone un problema più generale santo stefano di cadore lo abbiamo detto tante volte le frizioni tra il sindaco e la sua stessa maggioranza erano grandi evidenti non solo tra il sindaco e la sua maggioranza ma anche tra il sindaco e in generale potrei dire il sentore del gomelico gli amministratori del gomelico c'è stata in questi anni la partita importantissima della chiusura della galleria e non sempre il sindaco si è mosso in sintonia con gli altri amministratori bene il sindaco di santo stefano di cadore si dimette dopo mesi di incomprensioni nella maggioranza dice il titolo oscar meneghetti si alza c'è proprio la fotografia di lui che si alza e lascia la poltrona di sindaco di santo stefano la cosa è davvero clamorosa avviene pochi giorni dopo la notizia delle difficoltà interne alla giunta a san vito di cadore dove peraltro il sindaco invece ha deciso di provare a restare in sella anche se ha perso il vice sindaco e altri consiglieri che sono usciti dalla compagine di governo amministrativo del comune pagina 2 del gazzettino la tragedia sulla gordina ci sono le foto di questo ragazzo morto incredibile evita un cervo schianto fatale dopo la laurea il lavoro lui era il nostro orgoglio davvero un ragazzo d'oro ovviamente sono i genitori i parenti a parlare così e capite quanto dolore c'è in queste parole le fotografie sono quelle che avete visto anche sull'amico del popolo e c'è la continuazione l'approfondimento dell'articolo di giuditta bolzonello sul sulla necessità di dotare le strade di sottopassaggi dove è necessario per far passare la fauna e poi vi dicevo dopo questo primo sfoglio tremendo sulla morte di questo ragazzo il secondo sfoglio altre due pagine sono sull'omicidio di questa donna povera da parte del figlio la furia e la chiamata l'ho ammazzata io la famiglia gestito per anni l'albergo bellavista d'auronzo quindi due pagine di approfondimento anche qui poi c'è la notizia su cortina primo atto da ministro legna da ardere assalto al bando feltre scompare in van di fiemme non c'è nessuna traccia di un 26 n bellunese che si chiama nicola spagnolo che è noto in città per l'attività di fisioterapista l'allarme è stato lanciato dopo il ritrovamento del suo zaino al bivacco paolo nicola ma al momento non si sa niente di lui speriamo bene dopo si va avanti si trova pagina 11 la ruspa rovesciata la notizia sull'ultima chac della fiction un passo dal cielo e l'articolo in basso che descrive nel dettaglio la situazione del comelico con le dimissioni del sindaco meneghetti e poi si passa alle pagine dello sport vediamo solo la prima velocemente ve la mostra dopo passiamo al corriere delle alpi la prima del gazzettino di di belluno del gazzettino nazionale eccola qui bollette ecco il piano di aiuti purtroppo come si vede c'è la fotografia in prima pagina è la foto dell'omicidio da parte di questo uomo di auronzo della l'omicidio della propria della propria madre il corriere delle alpi porta come titolo evita un cervo e si schianta sotto c'è la foto del giovane morto ma la foto principale della pagina anche qui è sul fatto di conegliano con la foto in piccolo della donna uccisa da ippolito zandegiacomo e poi sotto muore schiacciato sotto la palla meccanica e di fianco la gorai il fisioterapista di feltre disperso da venerdì lavora nel belunese feltre appunto e non si trova e non si trova ecco è stato trovato il suo zaino come dicevamo ecco questa queste purtroppo sono le notizie della prima pagina anche sul corriere di oggi fonzaso poi palpeggiatore arrestato dopo la fuga in bagno ha palpeggiato una ragazza nelle parti intime ed ha rischiato il pestaggio ha chiamato i carabinieri ed è stato arrestato limana bus già pieni studenti lasciati a piedi alla fermata nuove segnalazioni di disagi in sinistra piave l'azienda la dolmitibus vigileremo siamo pronti a trovare una soluzione in taglio basso consorzio comune al lavoro natale a belluno con le casette e la terra di gerram dunque nel 2019 c'è anche la foto la luna di luke gerram installata sopra la fontana in piazza dei martiri aprì un natale da record per la città e quest'anno si replica con la terra però non con la luna ma a belluno ci saranno anche le casette e la musica e il videomapping sui palazzi e la pista di ghiaccio non è detta l'ultima parola forzì in qui che approfondisce i ragionamenti che si fanno sulla sul prossimo sugli intrattenimenti per le prossime festività natalizie con questo mi fermo qui vi saluto vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro un buon martedì 25 ottobre ciao a tutti da Luigi Guglielmi